Eccole le nuove condotte, i nuovi serbatoi realizzati nell'ambito dell'intervento di potenziamento e razionalizzazione dell'Acquedotto del Frida e inaugurati a Fernandina. Nel corso di un incontro a cui ha partecipato tra gli altri il sottosegretario alle infrastrutture, Umberto del Basso De Caro. Le opere rientrano nell'accordo istituzionale nel quale Acquedotto Lucano viene designato come enteattuatore dell'intervento stipulato nel 2005 tra il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Basilicata per un importo di oltre 22 milioni di euro. E' molto importante perché si inaugura un'opera pubblica che è a servizio di ben 33 comuni, che è stata finanziata interamente dal Ministero delle Infrastrutture, è un'opera che si trova nel sud ed è un'opera che può avere un ulteriore sviluppo verso Matera. E' un'opera fondamentale che ha avuto come soggetto attuatore l'Acquedotto Lucano ma come soggetto finanziatore lo Stato centrale. Lo schema idrico realizzato dagli anni 60 e 70 origine dalle sorgenti alle falde del Monte Pollino. L'Acquedotto ha una lunghezza di circa 500 chilometri, serve 114 mila abitanti in 33 comuni tra il Materano e il Lago Negrese. Le opere realizzate comprendono 36 chilometri di nuove condotte. L'obiettivo è quello di fare in modo che si prosegui nell'opera e possa arrivare fino a Matera perché le sorgenti del Frida possano servire tutta la nostra rete ed evitare tutto il dispendio di risorse che fino a questo momento c'è stato.